Ciao a tutti, eccomi con le anteprime della fresca serie turca My Home, My Destiny che vedremo in onda dal 10 al 12 luglio, trasmessa su Canale 5, che ci immergono nell'universo di Zeynep. La narrazione prende avvio con Zeynep seduta di fronte alla sua psichiatra, meditando sulle forze che modellano il corso della vita e sul ruolo svolto dal destino. Secondo Zeynep, il destino è strettamente correllato al luogo di nascita. Zeynep inizia a raccontare la propria storia, nata in una famiglia di estrema povertà, con un padre violento e alcolizzato, costretto a lavorare mentre sua madre si prendeva cura di lei e dei suoi due fratelli. La sorella maggiore è scappata con il fidanzato a 15 anni, mentre il suo fratello Resmi, gravemente malato, è morto prematuramente. Zeynep, che avrebbe desiderato studiare e diventare avvocato, non ha mai avuto l'opportunità di farlo. Zeynep rivela che dopo la morte del fratello, ha lavorato con sua madre, facendo le pulizie per una famiglia agiata che si è affezionata a lei. Questa famiglia ha convinto i genitori di Zeynep a farla vivere con loro, offrendo un'istruzione migliore. Il padre di Zeynep ha accettato, soprattutto perché significava una bocca e meno da sfamare. Così ha inizio la nuova vita di Zeynep nella famiglia adottiva, dove ha potuto studiare nelle migliori scuole e mantenere le promesse fatte a suo fratello. Nonostante ciò, in fondo a Zeynep rimane un senso di amarezza per aver abbandonato sua madre e si sente in colpa per questa scelta. Si è ripromessa di ripagarla attraverso lo studio e il salvataggio reciproco. Crescendo, Zeynep ha goduto di una vita agiata e appagante. Frequenta la scuola e ha un legame profondo e affettuoso con la sua madre adottiva, che chiama affettuosamente mammina e con suo padre adottivo. Nel frattempo, mentre Zeynep cerca di raggiungere i suoi genitori adottivi per un pranzo, l'allegatore la conduce in un quartiere sbagliato. In quella zona dei bambini giocano a disseminare i chiodi per forare le ruote delle macchine, che passano, e Zeynep finisce per essere vittima di uno scherzo di cattivo gusto. Zeynep si ritrova nei pressi di un'officina, da cui esce Medi, il proprietario. Il loro primo incontro è intenso e i loro sguardi si incrociano in modo significativo. Sembra che entrambi siano profondamente colpiti l'uno dall'altro. Zeynep scopre parlando con i ragazzi dell'officina che Medi è una sorta di Robin Hood locale, rispettato e amato, sempre a favore dei più deboli. Poco dopo la macchina diesel di Zeynep è pronta e Medi ne offre la riparazione. Infatti è rimasto molto colpito dal fatto che Zeynep non abbia mostrato arroganza, ma un sincero interesse per il loro mondo. È il compleanno di Zeynep e scopriamo che è fidanzata con Farouk e dovrà presto trasferirsi a Londra con lui. Nel frattempo a casa, durante la selezione della futura moglie per Medi, emerge il nome di Zeynep, che proviene proprio da quel quartiere dove è stata adottata da una famiglia benestante per poter studiare. Inoltre il defunto fratello di Zeynep, Ramsey, era il migliore amico di Medi. Pertanto Medi convoca i genitori biologici in Zeynep per discutere i termini del matrimonio. Durante il compleanno di Zeynep si presenta Sakine, sua madre naturale, che gli consegna un regalo e se ne va per non metterla in imbarazzo, soprattutto perché Farouk non sa della sua esistenza. Poi lo stesso Farouk fa la proposta di matrimonio a Zeynep davanti a tutti gli invitati della festa. Lei accetta, seppur non completamente convinta. La festa di Zeynep continua, ma è evidente che qualcosa la turba. Decide quindi di lasciare la festa e raggiungere Sakine, sua madre naturale. La sua madre è adottiva, cerca di trattenerla, ma Zeynep decide di andare. Arrivia quindi nella sua vecchia casa, quella della sua infanzia, dove è assente da 12 anni. Quando arriva incontra subito sua madre. Zeynep si scusa per non aver detto la verità a Farouk sulla sua vera identità. Sakine è solo contenta di vederla e non lei colpa di nulla, visto l'assenza del padre. Zeynep entra in casa, dove rivive i momenti della sua infanzia. Zeynep, parlando con la madre, scopre che non ricevono più soldi da Senior Krim, il padre adottivo di Zeynep, soprattutto perché ha avuto pesanti screzzi con il padre biologico. Arriva poi il padre e rimane senza parole nel rivedere sua figlia. Si commuove e si inginocchia davanti a lei, invocando il suo perdono per averla lasciata andare tanti anni prima. Poi sente i suoi genitori parlare del fatto che non hanno abbastanza soldi per andare avanti. Zeynep decide quindi di prestare loro del denaro. Nel frattempo, Medi, a casa con le sue sorelle, parla del fatto che sua madre si sta muovendo per cercargli una moglie adatta. Medi scherza sul fatto che piuttosto che far scegliere alla madre la sua futura sposa, è disposta anche a partecipare a un programma tv in cui si organizzano matrimoni. Zeynep, arrivata a casa, affronta subito i genitori adottivi e chiede spiegazioni sul perché se i genitori naturali non ricevono lo sestentamento promesso da loro. Krim risponde che si è sempre sforzato di far lavorare il padre, che lo ha sempre messo in imbarazzo. L'alcolismo e i problemi di gioco del padre sono sempre stati un problema. Zeynep spiega che suo padre sta cambiando, ma Krim la mette in guardia. Il padre è un abile giocatore, non è veramente cambiato, ma Zeynep non gli crede. Medi parla con sua sorella, che non informa del fatto che la loro madre ha deciso che Medi sposerà Zeynep. Lui non ha idea di chi sia, non sa che è proprio la ragazza che ha incontrato in officina e si arrabbia del fatto che qualcuno scelga per lui. Nermin parla del futuro di Zeynep con Farouk e le dice che anche lei e Krim si trasferiranno a Londra con loro. Zeynep pensa subito che i suoi genitori biologici rimarranno soli, chi le aiuterà se tutti lasciano la Turchia per andare a Londra. Medi in officina riceve la visita di un uomo con il suo seguito armato e minaccia Medi, invitandolo a stare fuori dai suoi affari. Scopriamo che quest'uomo è un criminale responsabile della morte del padre di Medi anni prima. Sakine va a casa di Nermin che le propone un matrimonio tra Zeynep e Farouk che ha già fatto la proposta. Sakine sembra sconvolta da questa notizia. Farouk l'ha scambiata per la babysitter, non sa nulla di lei e Zeynep non gli ha mai parlato di questo ragazzo. Sakine vuole sapere anche dove si stabiliranno una volta sposati. Nermin le dice che non è sicura ma i due hanno intenzione di andare a vivere a Londra. A questa notizia Sakine rimane sconvolta, non vuole che sua figlia vada così lontano. Sakine e Nermin cominciano a discutere, rifacciandosi reciprocamente il passato e il fatto che vogliono sfruttare Zeynep. Sakine si promette quindi di non permettere più a Nermin di allontanare ulteriormente sua figlia da lei. Quindi torna a casa e racconta tutto al marito e i due discutono. Durante la discussione entra in casa Sultane e comunica loro che Medi, il figlio di Zeynep, è innamorato di Zeynep. È un uomo degno di fiducia e sicuramente sposando Zeynep si prenderà cura anche di loro. A questo punto il compito di Sakine è convincere la figlia a sposare quest'uomo. Zeynep poi va a trovare la madre che visibilmente arrabbiata accusa Zeynep di vergognarsi di loro, di nascondere la loro identità al suo futuro marito Farouk e di non riconoscere il grande sacrificio che Sakine ha fatto per lei affidandola a un'altra famiglia. Zeynep è molto affranta per quello che sua madre le dice e cerca di giustificarsi, ma Sakine la incauza arrivando addirittura a mettere sua figlia di fronte a una drammatica scelta, sposare Farouk e allontanarsi da lei e suo padre. Zeynep implora a sua madre di non metterla di fronte a questa scelta e a questo ricatto morale, ma Sakine rimane ferma. Quindi Zeynep decide di trasferirsi per un periodo a vivere con sua madre biologica Sakine e suo padre per aiutarli, lasciando Farouk e la sua famiglia adottiva. Nermin e Krim non prendono bene questa decisione. Nermin dice esplicitamente che non lasceranno andare, anche se Zeynep promette di andarli a trovare tutti i giorni. Krim, arrabbiato, esorta Zeynep ad andarsene definitivamente, pronunciando frasi offensive. Le forti parole di Krim feriscono Zeynep, che bacia Nermin e abbandona la casa. Zeynep fa finalmente il suo ritorno nella casa della sua infanzia, suscitando grande commozione in Sakine, che la abbraccia. Zeynep spiega che non sposerà Farouk. Medi, dopo aver visto la madre avere un malore e aver riflettuto sulla brevità della vita, chiede informazioni su chi sia questa Zeynep, che vogliono farlo sposare. Il suo unico desiderio ora è vederla sposata e parla di Medi, il miglior amico del defunto fratello, l'uomo a cui tutti gli abitanti del quartiere si rivolgono e che è molto ambito dalle donne. Zeynep però non tollera che venga organizzato un matrimonio tradizionale scelto dalle famiglie e combinato per sistemare economicamente i suoi genitori. Sakine insiste e dice che questo restituirà loro il tempo perso. Zeynep continua a non essere d'accordo, così Sakine le rinfaccia su ciò che ha fatto per lei e le ha esorta a sposarsi per il bene della sua famiglia. Poco dopo si incontrano per strada e nessuno dei due sa ancora che sono i promessi sposi dell'altro. Medi le consegna un fermaglio che Zeynep aveva dimenticato in officina. La tensione tra loro è palpabile. Medi le chiede il nome ma Zeynep risponde che si rincontreranno presto e così lo scoprirà. Si salutano e ognuno riprende la propria strada. Tornato a casa Medi chi dà informazioni su Zeynep e dice che andrà a conoscerla. Come vuole la tradizione il matrimonio sarà un grande regalo per la sua madre prima che lei muoia. Quindi il giorno dopo Zeynep si prepara per andare a conoscere Medi. Quando arriva lui è seduto a un tavolino. I due si guardano negli occhi e si riconoscono. Sono visibilmente sollevati di vedersi così si siedono al bar e iniziano a parlare del più e del meno con un po' di imbarazzo. Zeynep chiede a Medi come possono risolvere questa situazione matrimoniale. Lui le spiega che sta consentendo di fare come ha indicato sua madre perché ha avuto molta paura di perderla a causa di un infarto e non vuole farla soffrire ulteriormente. Zeynep spiega invece che lei da tanto tempo manca dal quartiere e questo ha fatto soffrire molto sua madre. Ora nonostante tutto lo studio di Zeynep e il suo sogno di diventare un avvocato questo è un passo importante. Medi la rassicura subito dicendo che Zeynep deve assolutamente terminare i suoi studi e realizzare il suo sogno di diventare avvocato. Zeynep è incredula e capisce che Medi non è il tipo di matrimonio tradizionale che si aspettava di incontrare. Medi dice di essere pronto per questo matrimonio che è pronto ad accettare il destino e che sposerebbe Zeynep anche il giorno seguente. La decisione spetta a lei. Così terminano le anticipazioni di My Home, My Destiny. Se il video vi è piaciuto lasciate il mio mi piace e iscrivetevi al canale. A presto, ciao!